Sempre Luxury ma altro segmento, Francesco Ragazzi, Founder e Creative Director di Palm Angels. Grazie a tutti. 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 A me piacerebbe che tu iniziassi raccontando la tua storia, quindi questo è un po' il punto di partenza. Come sei arrivato a Palm Angels? Da dove arrivi? Grazie a tutti, grazie a tutti. Buongiorno a tutti. E conoscere sempre meglio il mondo della moda, no? Un settore che mi è sempre appassionato. Io volevo essere fotografo di moda. E la mia promessa era di lasciare quel posto di lavoro il prima possibile per poi dedicarmi ancora alla fotografia. per 12 anni ho lavorato, quindi uno spostamento sulla parte artistico. c'è stato, c'è stato, c'è stato assolutamente la fotografia, c'è stato assolutamente la fotografia. di tu, c'è stato, c'è stato assolutamente la fotografia, c'è stato assolutamente la fotografia, c'è stato assolutamente la fotografia. Quindi ho costruito quello che era un mondo attorno a questo progetto fotografico, ho fatto un libro con Rizzoli, con la forward di Pharrell Williams, una serie di progetti speciali attorno al lancio, una mostra, colette. E quindi, ancora prima di aver creato una collezione, avevo creato un brand, no? Un woodward anche, penso. Un manifesto, io lo chiamo, no? Era proprio un'identità molto forte. e una persona, a me vicino, Davide Regiglio, ha visto questo progetto, ha creduto anche lui in me e abbiamo creato insieme in pochi anni un brand. Facciamo conto che il libro è stato lanciato nel 2014, la prima collezione è nata nel 2015. Quindi, di fatto, è un progetto molto, molto giovane e poi, insomma, pian piano, ma con tanto lavoro e molta dedizione, cercando di lavorare sia su Montclair che Palmangels. Quindi all'inizio eri tutte e due? I miei orari erano fino alle 7 di sera da Montclair e poi dalle 7, mezzanotte, 2 di notte da Palmangels, questo per i primi tre anni. E ovviamente tutta l'esperienza da Montclair mi ha aiutato a vedere come cresce un brand e tutte le difficoltà e tutto il percorso che si fa. Perché facciamo conto che quando ho cominciato a lavorare in Montclair facevo 40 milioni di fatturato, 2007, forse un pochino di più, fino ad arrivare adesso a quello che è. E quindi ho visto veramente un ampliamento abbastanza, fino ad arrivare qui in borsa, quando abbiamo quotato il marchio. Quindi quella strada, ovviamente, che è quella che mi auguro per Palmangels, anche se in maniera diversa, è un po' quella che sto cercando di seguire, no? Chiarissimo. È l'insegnamento. Intanto mi sembra che le premesse sono buone perché è un marchio assolutamente noto. Tu sei il direttore artistico oltre al founder di Palmangels, ecco, quindi hai un punto di vista anche tu privilegiato sull'evoluzione stilistica della moda. Cioè cosa vedi, in che momento siamo oggi? Prima abbiamo parlato di Quai Luxury, cosa vedi dal punto di vista... A me mi è sempre appassionato essere, dalla parte creativa, ma anche dalla parte di business, perché purtroppo adesso non puoi avere una senza l'altra, soprattutto in momenti come questi, no? Si parla di Quai Luxury. Io sono abbastanza critico, nel senso che penso che il sistema moda si parli molto addosso, no? Ovviamente ci sono dei marchi che in questo momento, visto il trend, stanno facendo molto bene. Adesso non faccio nomi, ma li sappiamo, li hai nominati tu prima, no? Però dall'altra parte c'è tutta una parte di mondo del lusso, che non posso chiamare Quai Luxury, che fa magari numeri molto più grossi, no? Quindi bisogna essere sempre abbastanza cauti ai trend, anche perché è un sistema estremamente volatile e ciclico, no? Quello che magari non andava quattro mesi fa, adesso va, e chissà fra cinque mesi o un anno. Quindi l'importante è essere se stessi, il DNA forte e non guardare troppo attorno, insomma. E se devi definire invece Palmanges, quale sarebbe la definizione del DNA di questo trend? Ma la definizione, che è un po' un mio modo di lavorare, è cercare di mettere insieme delle cose che naturalmente non fanno parte una dell'altra, no? Il Palmanges è una visione, la mia prospettiva, su quella che è la cultura americana con uno spirito italiano, no? Quindi ho impostato il lavoro su creare questo luxury streetwear, dove da una parte c'era quello che viene dal mondo della strada, quello che la gente si mette ogni giorno, però cercarlo e portarlo al lusso, no? Quindi il mio amore per i materiali, per la generalità, per il made in Italy di fatto. Quindi unire queste due essenze italiane e americane insieme. E tu hai detto che hai lanciato il progetto con Davide Agiglio, poi dentro quindi il gruppo New Guards Group, che aveva dentro Burlon, Off-White e poi siete entrati dentro Farfetch. Oggi comunque quanto è stato importante per te e per voi essere in un gruppo? Prima un gruppo di un certo tipo, poi un gruppo più grande? Beh, fai conto che quando è nato Palm Angels non esisteva neanche il gruppo, però sicuramente far parte della stessa galassia di questi brand all'inizio ha aiutato, perché c'era una piattaforma, no? New Guards è servita come rampa di lancio, no? Come facilitatore, però ovviamente dietro ci deve essere comunque una visione, altrimenti è molto difficile poi continuare nel long term. Di fatto mi rapportavo con persone come Virgil, che come sappiamo ha costruito un marchio molto forte, ha fatto parte del team di Louis Vuitton, quindi è riuscito a portare un po' a livello ancora più global quello che stavamo facendo da qui. Oggi lo sviluppo di Palm Angels, oggi si può dire che fate ben più, abbiamo parlato ben più di 100 milioni di euro, poi non si può andare troppo nel dettaglio perché siete parte di Farfad, c'è un gruppo quotato. Quali sono le direzioni di sviluppo del brand da adesso in avanti, alla luce della tua visione di cui parlavi? Io ti faccio un esempio, ben più di questi 100 milioni di fatturato che facciamo sono l'80% uomo ready to wear. Quindi abbiamo una possibilità di crescita enorme nella donna, nell'accessorio, nella parte che è sneaker, crediamo molto nella parte di eyewear, e poi uno sviluppo di mercati come la Cina, che per noi è quasi nullo, o comunque l'Asia, abbiamo appena aperto un negozio in Corea quest'anno, però nel senso è tutto un mondo che per noi può essere veramente grosso e di sostanza per il business. E queste sono le cose su cui noi ci dovevamo un po' focalizzare. Quindi retail e... Quanti negozi avete oggi? Adesso sono attorno ai 13, tra quelli nostri di proprietà e quelli invece in franchising. Abbiamo appena aperto New York, abbiamo appena aperto Parigi, Milano, Miami, Las Vegas, adesso opereremo fine anno, inizio anno Orange County Costa Mesa, che è uno dei mall che performa di più al mondo. Quindi essere dove il brand è comunque già maturo per esserci, far conoscere il brand è anche una demografica diversa, perché comunque sì, street luxury, però cerchiamo sempre di posizionarci come vicinanza ai negozi di gruppi lusso, quindi c'è una nuova demografica che scopre i nostri prodotti entrando nei negozi. Questo per noi è super importante per prendere anche una fetta di mercato che adesso non abbiamo. E sempre parlando, diciamo così, di trend di mercato e anche trend di business, negli ultimi anni sono esplose le collab, collaborazioni di vario tipo. Voi siete sicuramente tra quelli che le utilizzano, perché Moncler, Tots, giusto, se non erro. Ecco, a cosa servono a un brand le collab e nello specifico a... Sono esplode, dico, la mia carriera, ho cominciato a fare da Moncler, ma forse sarà stato appunto 2009, le prime, o fare Williams, o Virgil, oppure da Tom Brown, tutti questi marchi magari che erano meno conosciuti allora. Per me servono, in un marchio come Palm Angels, quindi un marchio relativamente giovane, per prendere una categoria che non abbiamo, no? Moncler ci serve molto per tutta la parte, a parte ovviamente il prestigio e il valore affettivo per me, ma serve per una parte di Outwear, che per noi è molto importante come categoria, Tots per entrare nella parte più formale, ma faccio sempre anche l'esempio di, non so, Vibre Can per tutta la parte di Resort, Missoni per la donna, quindi abbiamo fatto tutte delle collaborazioni che servissero al nostro business. Ovviamente era un win-win, perché si riusciva a parlare di tutti i brand in una maniera innovativa, però io quello che guardo sempre è cercare di prendere un consumatore nuovo e una nuova categoria. Ma hanno una valenza solo di comunicazione o anche di business? Cioè quanto poi pesano nel fatturato? Moncler e Palm Angels sono una delle collaborazioni, penso, più successful che c'è nel mondo di Moncler e per noi, ovviamente. Per me è sempre importante che abbiano un senso e poi che siano dei brand con forte DNA. Cioè mi piace interpretare qualcosa che è estremamente conosciuto e cercare di cambiare la faccia a qualcosa che tutti conoscono. il piumino, il barbur, la tots, il costume da bagno. È sempre la mia visione creativa su questi tipi di prodotti super iconici. Quindi se dovresti dare un consiglio anche agli imprenditori che sono alla guida di altre aziende, la chiave è mantenere, cioè capire che siano funzionali al proprio DNA. Questo sicuramente, poi sai, dare degli esempi è molto difficile per ogni brand, però in questa fase di brand come Palm Angels penso che sia importante essere intelligenti e cercare di avere delle categorie, owning the category, io dico, no? Cercare di essere credibili in una categoria nuova che non è sempre facile, sai? Noi comunque veniamo etichettati come streetwear, dove streetwear è la felpa, la t-shirt, la sneaker, no? Invece il nostro business è l'outwear, il nostro business grande è il knitwear. Cioè cercare invece di essere extra categorie, no? Prima parlavi della donna, come fai a crescere? Dici, noi siamo ovviamente fortissimi sull'uomo, la donna è una grande opportunità. Ecco, ma vi manca qualcosa sulla donna o perché non ci siete dedicati? Che cosa vuole dire? Come vedi la donna Palm Angels? Perché la nostra donna è sempre stata, credo fortemente ancora in questa categoria, vista come derivante dal guardaroba uomo. Se vuoi prendere un altro tipo di donna, deve avere anche un prodotto più femminile che noi fino adesso non abbiamo mai fatto, no? Quindi c'è uno sviluppo appunto dello stile, del team dello stile, di categorie per quel tipo di donna, e anche un tipo di comunicazione che è sicuramente diversa. Chiarissimo. Un'ultima domanda. Quanto è importante per voi, quindi voi fate stritto, ma quanto è importante per voi il Made in Italy? È fondamentale, è uno dei pilastri su cui ho costruito il brand, no? Il mio amore per l'artigianalità, no? Mi sento un po' anche un paladino in cercare di raccontare quello che è il Made in Italy, a una nuova generazione che è il mio consumatore principale, facendo appunto anche collaborazione con Toz, che lanceremo tra l'altro dopo domani, dove il prodotto e l'amore per il prodotto, la passione per il prodotto, come viene fatto, è alla base di tutto, no? Quindi cercare di riunire una nuova generazione con quello che invece è la nostra cultura. Anche se Bellmangers, credo i consumatori non sappiano che è un marco italiano. Nessuno, infatti mi chiedono se vivono o vivono a Los Angeles, ma assolutamente... Quindi è un marco... Sono tutti assolutamente convinti che sia un marco di Los Angeles, ma è un marco 100% italiano. Ovviamente di ispirazione americana, ma è un 100% italiano. Va bene così, quindi siete comunque, credo di poter dire, in questa evoluzione degli stili e delle tendenze, in ogni caso è bello poter vedere che ci sono anche marchi che interpretano il Made in Italy in un modo diverso da quello che è più classico, ma è che però possono garantire anche che per i anni a venire i nostri distretti abbiano lavoro su cui impegnarsi. Grazie mille. Grazie a tutti. Complimenti. Grazie. 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 Grazie.